sono sempre molto stanchi cerchio ifior attraverso tullia e gian l'uno e i molti georgei gli strumenti perdono molta energia per fare questi incontri tant'è vero che specialmente il giorno dopo gli incontri quando l'effetto fisiologico è terminato gli strumenti sono sempre molto stanchi noi riusciamo a prendere questa energia a catturarla allorché passa attraverso i loro vari chakras ed in qualche modo a modificarla a manipolarla per far sì di poterci presentare a voi ora se loro fermassero la loro energia a livello genitale non si farebbero delle sedute ma delle orge grazie